Ottobre, come sapete, è il mese per antonomasia dei playoff MLB e siamo ormai arrivati alla post-season 2020. Vedremo oggi in questo video quelle che sono le classifiche finali della regular season 2020, vedremo il tabellone e poi ci dedicheremo al mio personale pronostico che farò in diretta con voi qui in questo video. Dunque, torniamo a parlare di MLB e dedicheremo tanto spazio sul mio canale sportivo in questo mese di ottobre ai playoff MLB. Spero, lo dico già prima di partire con il merito del video, di fare un recap per ogni turno di playoff che si verrà a concludere. Il primo turno inizierà già questo martedì e si concluderà venerdì e poi si proseguirà fino alle World Series che si giocheranno ad Arlington, Texas dal 20 al 28 di ottobre. Ma della post-season di come funziona ne parleremo dopo perché sono stati dati i verdetti definitivi e partiamo, come al solito, dalle classifiche della regular season. In questo stagione 2020, che appunto è stata classificata come la stagione più corta di sempre, i Tampa Bay Rays hanno vinto l'American League East con 40 vittorie e 20 sconfitte. Secondi New York Yankees con 33 vinte e 27 perse. Toronto cede ai playoff come prima delle migliori terze con 32 vinte e 28 perse. Fuori dai playoff Baltimore e Boston, non di certo una stagione felicissima per i Boston Red Sox che hanno di fatto abbandonato fin dalle prime battute la stagione 2020. Peraltro è notizia di oggi che i Red Sox hanno licenziato l'allenatore Ron Roenighi e stanno dunque cercando un nuovo manager per il 2020. Nell'American League Central il campione ancora una volta è Minnesota, i Twins vincono la division con una partita di vantaggio sui White Sox e Cleveland Indians al termine di una lotta a tre. Veramente equilibrata e attenzione a queste squadre ai playoff perché secondo me potranno essere delle mine vaganti. In questa postseason Minnesota è prima con 36 vinte e 24 perse, Cleveland e Chicago White Sox sono secondo ex equo di fatto al 35 vittorie e 25 sconfitte anche se nel seeding i White Sox sono sotto visti gli sconti diretti sfavorevoli con la squadra dell'Ohio. Fuori dai playoff Kansas City e Detroit che comunque erano squadre in rifondazione e si sapeva. C'è la notizia nell'American League West perché la formazione vincitrice della division non è Houston come nelle previsioni della vigilia ma è Oakland che appunto ha avuto un record di 36 vittorie e 24 sconfitte. Tutte le altre squadre hanno avuto un record negativo ed è abbastanza strano che ce l'abbia avuto Houston che si arriva ai playoff ma con una stagione non di certo sulle aspettative. 29 vinte e 31 perse per la squadra texana, terzi sono i Seattle Mariners che hanno addirittura battuto Los Angeles, Pond Angels e i Texas Rangers. Los Angeles, Pond Angels tra l'altro ancora una volta padroni di una stagione veramente orrenda e deludente. La squadra di Mike Trout e Anthony Rendon ancora una volta era la squadra che era stata costruita per provare a arrivare ai playoff e ancora una volta non ci arrivano neanche dipinti. E anche qui sono state fatte delle mosse di mercato interessanti perché il general manager è stato licenziato al termine di questa regular season 2020. Giustamente è ora di cambiare qualcosa per gli Angels e ovviamente il general manager ne ha fatte diciamo le spese visto che ha costruito una squadra che tutti gli anni ha creata come potenziale detentrice o della division o comunque di qualificarsi ai playoff. E puntualmente non ci riesce ed è un peccato perché come ben sapete tutti gli Angels dispongono di Mike Trout, il giocatore più forte evidentemente dell'era moderna della MLB. Ultimi sono i Texas Rangers che avranno l'onore di aspettare le World Series e non solo quelle in questa posizione 2020 e per il resto parliamo di una squadra in completa rifondazione. Passiamo alla National League che anche qui ha dato i verdetti soprattutto in una division particolare e adesso la vediamo. Nella National League East comunque c'è la vincitrice della division che è Atlanta come da pronostico 35 vittorie e 25 sconfitte per i Braves. La grande sorpresa è ovviamente Miami una squadra che doveva essere in tanking sfrenato in rifondazione estrema con un record addirittura sopra il 50% batte rivali molto più accreditati e si qualifica ai playoff per la prima volta dal 2003. I Marlins hanno avuto diciamo gli anni di grazia nei primi anni 2000 quando è iniziato a seguire il baseball ed era l'anno in cui vinsero il titolo contro gli Yankees e nel 2003 arrivarono ai playoff quando allora si chiamavano Florida Marlins. Da qui una serie di stagioni orrende. Sono arrivati comunque giocatori molto forti in questa squadra anche se ovviamente è sempre stata una squadra in rifondazione. Da Miami comunque sono usciti giocatori come Giancarlo Stanton per dirne uno. Miami va ai playoff. Philadelphia, New York Mets e Washington Nationals sono fuori dai playoff. I delle zone principali sono ovviamente i miei New York Mets che per la sedicesima stagione su 19 della proprietà che sta per cedere la squadra a Steve Cohen ha mancato i playoff. Qualche sprazzo di buon baseball si è visto in questi anni ma purtroppo ti fare Mets in questi anni non è proprio una cosa felicissima, anzi è abbastanza sofferenza per quanto mi riguarda. In ogni caso speriamo che con la nuova proprietà si possa fare meglio di quelle stagioni deludenti. Tra l'altro Mets e Washington Nationals hanno avuto il record pari e sono comunque entrambi delle delusioni molto più Washington perché vi ricordo che i Nationals sono i campioni in carica. La cosa fantastica che è capitata nella division successiva la vediamo ovvero addirittura quattro squadre qualificate ai playoff da questa division. Gli unici esclusi sono stati i Pittsburgh Pirates ampiamente la squadra peggiore della Lega ma i Cincinnati Reds e i Milwaukee Brewers sono state classificate come le migliori terze da ripescare per il settimo e ottavo posto nel tabellone. I Chicago Cubs comunque vanno avanti come prima testa di serie, vincitore della National League Central con 34 vittorie e 26 sconfitte e quindi per la prima volta dopo tanto tempo ci sono entrambe le squadre di Chicago ai playoff. Seconda posizione per St. Louis con 30 vittorie e 28 sconfitte. Se si andate i Milwaukee sono qualificate ai playoff con 31 vittorie e 29 sconfitte i Reds e 29 vittorie e 31 sconfitte i Brewers quindi con un record negativo. Pittsburgh l'abbiamo già detto, la squadra ampiamente peggiore della Lega anche questa in estremo tanking. Concludiamo con la National League West con i Dodgers che ovviamente hanno stravinto la division con 43 vittorie e 6 sconfitte come da pronostico. E San Diego si è rivelata invece una squadra oltremodo sorprendente, oltremodo competitiva con 37 vittorie e 23 sconfitte. Fuori dai playoff San Francisco, Colorado e Arizona ma su San Francisco c'è da parlare soprattutto di questa National League che fino all'ultima giornata aveva i playoff da assegnare. Perché prima dell'ultima giornata c'erano addirittura 4 squadre in lotta per i playoff ovvero Philadelphia, San Francisco, Milwaukee e St. Louis. C'era lo sconto diretto in particolare tra St. Louis Cardinals e Milwaukee Brewers e in contemporanea la sfida tra i San Diego Padres e i San Francisco Giants. Sky Sport ha trasmesso San Francisco Giants contro i San Diego Padres in una partita di importanza capitale per due motivi. Se i Cardinals avessero vinto contro i Brewers, cosa che hanno fatto, i Giants avrebbero dovuto battere i San Diego Padres già qualificati ai playoff per arrivare quantomeno nella parte bassa del tabellone della National League e dunque aggiudicarsi i playoff dopo veramente tanto tempo. I Cardinals hanno fatto quello che hanno fatto e hanno battuto i Brewers per 5-2 in una partita che fin dal terzo inning ha visto i Cardinals mettere i punti decisivi sul tabellone. 4 punti per il beginning dei Cardinals per indirizzare subito la partita e poi di fatto al quarto inning Harrison Bader ha messo il fuoricampo del 5-1 che di fatto risulterà decisiva. Nulla vale il punto finale per i Milwaukee Brewers che comunque nonostante la sconfitta per 5-2 contro St. Louis sono qualificati ai playoff per questo risultato qui. Per la sconfitta dei Giants che perdono contro una San Diego che non aveva niente da chiedere ed è un rammargo per i tifosi dei Giants e anche per la squadra di Gabe Kepler perché durante la partita si sono verificate tantissime occasioni per andare a ribaltare il risultato e aggiudicarsi la vittoria che avrebbe qualificato i Giants ai playoff. Non è stato così, San Diego sfrutta in particolare il settimo inning per dare l'allungo decisivo ma è in quel momento che San Francisco prova a rimontare in particolare lo fanno per via aerea con due fuoricampo, il primo di Brandon Crawford interbase veteranissimo di lungo corso dei Giants per il 5-3 provvisorio e poi ci pensa Wilmer Flores all'ottavo inning con un altro fuoricampo per il 5-4. Nulla vale l'ultimo attacco dei Giants che devono in realtà subire i lanci di Trevor Rosenthal, cruiser di San Diego arrivato nella sessione di mercato quest'anno da Kansas City che appunto vanno a perdere una partita che probabilmente potevano vincere in particolare i Giants pagano questa sterilità offensiva nella prima metà della partita a parte nel secondo inning dove Maurizio Dubon, esterno centro honduregno, ha fatto un fuoricampo quadri in consecutivi senza punti con una squadra che aveva veramente tante occasioni insomma sono probabilmente un rammarico incredibile per una squadra che negli anni 2010-2014 ha vinto addirittura tre titoli delle World Series e qui non arriva nemmeno ai playoff ed è un rammarico e quindi per questo motivo i Milwaukee Brewers hanno sfruttato la sconfitta dei Giants e si sono qualificati ai playoff e adesso vediamo come sono stati assegnati gli accompiamenti nel tabellone vi ricordo che quest'anno i playoff della MLB sono playoff allargati a 16 squadre un po' come le altre lega americane che conosciamo in particolare NBA ed NHL la webcam oggi è volutamente al centro perché lasciamo spazio al tabellone questa è la partenza dei playoff che appunto partiranno il 30 di settembre anzi scusatemi il 29 scusatemi per quanto riguarda l'American League e il 30 per la National League e questi sono gli accoppiamenti come sono diciamo accoppiate le squadre dal seeding numero 1 al seeding numero 3 ci sono le vincitrici di ogni divisione quindi per l'American League abbiamo Tampa Bay, Oakland e Minnesota che hanno vinto rispettivamente l'American League East, l'American League West e l'American League Central dal seeding numero 4 al seeding numero 6 ci sono le seconde classificate di ogni division quindi in questo caso Cleveland è al quarto seeding quinti sono i New York Yankees e sesti sono gli Houston Astros secondi rispettivamente nelle loro divisione e settimi e ottavi sono le due migliori terze dell'intera conference American e National League ovviamente ripescate per il miglior record quindi settimi sono i Chicago White Sox e ottavi sono i Toronto Bull Jays, i canadesi il stesso discorso vale per la National League che vede come vincitrici delle divisione i Los Angeles Dodgers al seeding numero 1, gli Atlanta Braves al seeding numero 2 e i Chicago Cubs al seeding numero 3 questo ovviamente viene classificato in base al record della regular season quindi i Dodgers e i Tampa Bay Rays sono al primo posto del tabellone per il miglior record nelle loro conference seeding numero 4 per San Diego, seeding numero 5 per i Central East Cardinals secondi nella loro divisione e sesti in Miami Marlins secondi nella National League East per quanto riguarda invece le wildcard per il settimo ottavo seeding i Cincinnati Reds che tornano ai playoff dopo i tempi d'oro dopo il 2013 come ultima apparizione e i Milwaukee Brewers appunto che ci sono arrivati pur perdendo la partita contro St. Louis ma sfruttando la sconfitta dei San Francisco Giants e dunque gli accompagnamenti sono i seguenti la prima serie sarà tra Tampa Bay e Toronto, Cleveland, New York Yankees, Minnesota, Houston, Oakland, Chicago White Sox dall'altra parte Los Angeles, Milwaukee, San Diego, St. Louis, Chicago Cubs, Miami Marlins a tanta Braves contro Cincinnati Reds come si svolgono i playoff? e qui andiamo nelle partite nel merito la prima serie quindi gli accompagnamenti che vi ho detto saranno al meglio delle tre partite e si giocheranno nella diciamo stadio di casa della squadra meglio piazzata nel tabellone quindi Tampa Bay, Cleveland, Minnesota, Oakland, Los Angeles, San Diego, Chicago e Atlanta giocheranno in casa nel loro stadio il termine diciamo della Wild Card Series sarà ai primi di ottobre in particolare l'ultima partita sarà venerdì 2 ottobre dopodiché tutte le squadre si sposteranno nella bolla anche la MLB finalmente ha deciso di adeguarsi alle altre leghe che hanno creato la bolla l'NBA per esempio l'ha creata a Orlando e l'NHL l'ha creata in particolare a Toronto e a Edmonton qui vengono sfruttate anche in questo caso due città la National League avrà la loro bolla nello stato del Texas in particolare la parte alta del tabellone avrà le sfide ad Arlington mentre la parte bassa a Houston l'American League invece la parte alta avrà le sfide a San Diego mentre per quanto riguarda la parte bassa a Los Angeles e sarà in questo caso lo stadio dei Dodgers lo stadio dei Rangers, degli Astros, dei Padres e dei Dodgers dunque ospiteranno le Division Series il secondo turno di playoff che come tradizione sarà al meglio delle 5 partite al termine delle 5 partite se dovessero andare ovviamente al meglio di questa serie ci sarà la Championship Series diciamo le finali di conference per usare un termine cestistico e okistico che si svolgeranno per quanto riguarda l'American League a San Diego e per quanto riguarda la National League ad Arlington, Texas a differenza delle altre serie che avranno 3-5 partite qui si andrà al meglio delle 7 partite il vincitore della Championship Series andrà a fare le World Series per il titolo MLB 2020 World Series che si svolgeranno come dicevo prima dal 20 al 28 di ottobre ad Arlington, Texas e qui sarà interessante chi ci potrà arrivare alle World Series in questi playoff veramente veramente matti e per la prima volta playoff a 16 squadre, playoff allargati e adesso vorrei fare un gioco con voi per andare a vedere chi potrebbe essere i miei personali favoriti chi potrebbe arrivare alle World Series chi potrebbe avere il titolo nel 2020 considerato che appunto i playoff del Biblio sono sempre imprevedibili dunque aspettatevi che canni più o meno tutti i pronostici dunque partiamo da quelli che sono i tabelloni editabili e stampabili qui abbiamo una cosa molto artigianale ma che comunque per questo video ammatoriale ce lo possiamo far bastare con già gli accoppiamenti fatti come spiegato in precedenza e partiamo magari dalla American League che sarà la Lega che partirà per prima Tampa Bay e Toronto sono squadre della stessa divisione che appunto sembrano già avere un po' in questo caso un mismatch a favore dei Tampa Bay Rays mi aspetto che i Rays passino il giorno del turno anche se ovviamente almeno delle tre partite se per sbaglio si perde una sfida e immagino gara 1 dove entrambe le squadre schiereranno i migliori lanciatori è interessante capire un po' come andrà l'andamento ed è una serie a tre partite quella che mette di solito spalle al muro dunque attenzione perché un passo falso può essere fatale in ogni caso vedo Tampa Bay in ogni caso favorita visto che comunque ha dimostrato di essere una squadra interessante in particolare per quanto riguarda la stagione che ha fatto ha vinto una division incredibile battendo gli Yankees che notoriamente sono una squadra offensiva gli Yankees che andranno a giocare a Cleveland nello stadio degli Indians ed è una serie secondo me più equilibrata del previsto una serie che vede di fronte l'attacco dei New York Yankees che si sono qualificati ai playoff nonostante tanti infortuni ma per i playoff sono assolutamente in corsa secondo me per andare tanto avanti dipende come rientreranno gli infortunati in particolare Aaron Judge in particolare Giancarlo Stanton e vi faccio vedere come si comporteranno gli Indians onestamente se gli Yankees sono al completo e i Cleveland Indians altrettanto sono superiori evidentemente i New York Yankees dal mio punto di vista anche se vedo onestamente una vittoria in tre partite quindi al massimo anche se la squadra del Bronx la vedo evidentemente più favorita se sono al completo se dovessero esserci degli infortuni Cleveland ha qualche chance diciamo che potrebbe esserci un upset anche se questa serie veramente è molto 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 aperta secondo me sono un pochino meno aperte la serie tra Minnesota e Houston e Oakland e Chicago White Sox anche se più Minnesota e Houston secondo me è più sbilanciata Houston vi dicevo non arriva da una serie di stagione regolare fantastica anzi ha avuto un record negativo e non arriva ai playoff proprio nel migliore dei modi Minnesota invece è una squadra che ha un attacco veramente spropositato e può dare filo da torcere a tutti e per una volta vedo la squadra di Houston sfavorita in questo primo turno di Division Series e la squadra dei Twins la vedo invece avanti nel proseguo dei playoff e dunque Minnesota la metterei come terza squadra delle Division Series una Division Series che dovrà vedere chi premia tra Oakland e Chicago questa secondo me ragazzi è una partita una serie molto equilibrata vi dicevo prima è una serie al meglio delle tre partite è una serie che appena fai un passo falso ti butta fuori e non ti perdona quindi secondo me Oakland e Chicago possono essere abbastanza equilibrate è difficile qui dare un pronostico onestamente vado un pochino a simpatia e non me ne vogliono i tifosi degli Oakland Athletics i Chicago White Sox sono una squadra che mi ha entusiasmato quest'anno sono una squadra che ha sorpreso e onestamente le sorprese a me piacciono veramente veramente tanto e mi auguro che siano loro a passare i White Sox per la stagione che hanno fatto una stagione da terzo posto nella Division ma comunque molto equilibrato e quindi un American League Central che ha dimostrato di essere molto equilibrato i playoff ovviamente è un altro discorso però i White Sox sono sicuramente una squadra molto interessante e io li trasto vado avanti sperando che possano avere effettivamente questo confronto combino esatto nelle semifinali di conference così possiamo chiamarle passiamo alla National League ecco una National League che invece sembra in questi playoff pochino più squilibrata verso le teste di serie perché Dodgers, San Diego, Chicago Cubs e Atlanta Braves hanno degli accompagnamenti abbastanza facili l'unica eccezione probabilmente può essere San Diego che deve affrontare una squadra ostica come St. Louis che ai playoff è sempre tosta da battere ma San Diego ha un attacco spropositato in ogni caso tra Dodgers e Brewers vedo i Dodgers favoriti addirittura forse in due partite visto che i Brewers insomma non sono proprio arrivati con lo slancio verso l'alto in questi playoff amanti sono arrivati tramite una sconfitta di un'altra squadra nonostante anche la loro San Diego St. Louis vedo sempre i Padres favoriti ma non per 2-0 vedo più una partita già nel Sudden Death quindi alla terza partita i Padres me li aspetto vincitori di questa sfida contro i Cardinals e andare a affrontare i Dodgers nelle semifinali di conference Chicago Miami e Atlanta Sensennati secondo me non hanno diciamo chance Miami e Sensennati i Cubs li vedo favoriti a passare il turno così come gli Atlanta Braves in queste semifinali di conference quindi nella parte alta del tabellone mettiamo i Chicago Cubs mentre per quanto riguarda la parte bassa mettiamo Atlanta ovviamente Miami e Sensennati sono delle grandi sorprese vederli lì ovviamente arrivare ai playoff per loro è già un successone non penso abbiano molte chance considerato che comunque squadre di questo tipo sono più abituate a fare i playoff e ovviamente l'esperienza ai playoff conta anche se vi ricordo che nel meraviglioso gioco del baseball le variabili sono sempre sempre all'ordine del giorno e passiamo alle semifinali di conference dunque alle division series con Tampa Bay New York Yankees secondo la mia modesta previsione Minnesota Chicago White Sox dall'altra parte Los Angeles Dodgers San Diego Padres e Chicago Cubs Atlanta Braves sono serie ovviamente qui più equilibrate serie che vi ricordo sono al meglio delle cinque partite e andiamo a vedere chi potrebbe essere secondo me ovviamente fate tutte le premesse del caso i vincitori di queste semifinali dalla parte dell'American League Tampa Bay New York Yankees se fosse veramente questa una semifinale di conference è veramente un qualcosa di straordinario e vedo una vittoria in cinque partite e farei fatica veramente ad avere un pronostico per tanti motivi Tampa Bay ha dimostrato di essere una squadra più quadrata rispetto agli Yankees e probabilmente potrebbe essere interessante i New York Yankees sono sempre comunque una squadra da non sottovalutare ed è veramente difficile fare un pronostico certo i New York Yankees sono tornati a essere i Bronx Bombers se veramente al completo fanno veramente paura con Tampa Bay è veramente difficile fare un pronostico ripeto vedo una vittoria in cinque partite alla lunga penso che gli Yankees possano in ogni caso avere la meglio sui Rays anche se ripeto è veramente complicato fare un pronostico ovviamente io qui mi aspetto che tutto quello che dico verrà smentito ovviamente dal baseball vero ma è anche il bello questo di fare la bracket challenge spero che la facciate anche voi qualora vedreste questo video discorso simile secondo me va fatto tra Minnesota e Chicago White Sox sono due squadre veramente belle da vedere i White Sox dovevano essere in rifondazione sono già arrivati ai playoff i Minnesota Twin sono una squadra un po' più quadrata e secondo me sono loro leggermente favoriti anche loro li vedo in questo caso favoriti contro i White Sox e li vedo favoriti anche qui in 4-5 partite più 5 che 4 e quindi metterei Minnesota alle finali di conference così possiamo chiamarla discorso molto più complicato secondo me va fatto per la National League perché i Dodgers e San Diego sono due squadre anche qui della stessa division che si sono ovviamente affrontate più volte e c'è qualcosa di una partita molto molto equilibrata se devo essere onesto anche qui è ancora più difficile fare un pronostico perché parleremo delle 4 teste di serie del tabellone ovviamente partendo da Los Angeles Dodgers e San Diego anche qui vedo abbastanza equilibrio diciamo che nel lungo andare San Diego probabilmente sul monte di lancio non ha questi lanciatori partenti così dominanti considerato che si gioca anche qui al meglio delle 5 partite vedo più i Dodgers eseggimenti favoriti ma probabilmente anche qui o in 4 o in 5 probabilmente in 4 partiti Dodgers li vedo meglio tra Chicago Cups e Atlanta questa è veramente interessante perché i Chicago Cups sono una delle squadre più belle da vedere e Atlanta ha un attacco veramente sproprietato prima di Atlanta che ha un monte di lancio che è abbastanza carente perché oltre Max Fried non c'è praticamente nessuno vero le partite le vinci con l'attacco ma soprattutto ai playoff sono le difese che ti fanno vincere i campionati e il monte di lancio è abbastanza equilibrata anche se secondo me i Chicago Cups potranno andare avanti nel turno di playoff e andare ad affrontare i Dodgers in questa serie da 7 partite che appunto vedrà le Championship Series e qui è abbastanza un casino nel senso che se dovesse essere veramente così avere i Yankees e i Dodgers in semifinale è ovvio che li fanno pensare sempre come favoriti qui fare un pronostico è veramente complicato ovvio per la storia una semifinale scusatemi una finale di World Series tra Dodgers e Yankees sarebbe interessante qui bisognerebbe vedere i Dodgers sono sempre stati comunque una squadra che è arrivata sempre ai playoff ha speso un sacco di soldi ma ha sempre fatto figure abbastanza barbine nelle ultime stagioni vedi per esempio il playoff dello scorso anno Dodgers e Chicago Cups è una partita veramente equilibrata io già l'anno scorso davo i Dodgers in finale e non ci sono neanche arrivati perché sono usciti direttamente al secondo turno e onestamente contro i Chicago Cups è probabilmente più complicata se i Cups sono questi della regular season va detto che ovviamente la regular season è un conto playoff è un altro onestamente l'anno scorso li ho dati i favoriti i Dodgers per arrivare in titolo contro i Houston ma ho dato i Houston vincente onestamente spero che per i Dodgers sia la delusione però Chicago Cups li vedrei molto bene in finale onestamente li vedrei ovviamente vincitori ma se dovessero essere vincitori è veramente una partita a gara 7 gli Yankees e Minnesota questa è un'altra partita interessante che chiunque vinca possa dare secondo me spettacolo interessante certo Minnesota è più avanti come testa di serie è un attacco anche questo incredibile non come gli Yankees secondo me è una partita che si risolverà dovesse essere questa a gara 7 e mi auguro che ci sia spettacolo onestamente tra Minnesota e i Yankees è vero il fascino premierebbe i New York Yankees ma Minnesota è una squadra che comunque potrebbe dare del filo da torcere e signori qui faccio la giocata pazzesca e incredibile do l'upset e spero anzi spero no perché non sono tv di nessuna delle squadre però un Minnesota in finale sarebbe qualcosa di clamoroso qualcosa di spettacolare una finale tra i Chicago Caps e i Minnesota Twins sarebbe probabilmente una finale underrated però doppio upset per rendere un po' più di fascino in questa semifinale playoff sarebbe carino e interessante poi magari ovviamente funziona che i New York Yankees vengono eliminati immediatamente e tutti i miei discorsi vanno a farsi benedire se dovesse essere i Chicago Caps e i Minnesota Twins in semifinale insomma veramente una finale atipica in quanto partirebbero entrambe le terze teste di segra del tabellone ovviamente è una finale strana perché non si giocherebbe nello stato di casa né da una parte né dall'altra però dovesse la fantasia queste due squadre in finale sarebbe comunque uno spettacolo e ovviamente spererei che per la simpatia che nutro per i Caps possano coronarsi campioni nel 2020 oltre quel titolo che ha spezzato la maledizione del diciamo secolo e passa senza vittorie di titoli quattro anni dopo il 2016 secondo me Caps potrebbero vincere il titolo anche se ovviamente questo è un fanta tabellone potrebbe essere smettito fin da subito fin dal primo turno e da un certo punto di vista mi auguro che sia così in ogni caso spero ci sia qualche upset è difficile vederli ovviamente ovviamente nei primi turni nei secondi turni possono esserci delle sorprese in particolare i turni più indecisi sono ovviamente già Cleveland New York Yankees lo stesso Tampa Bay New York Yankees dovessero andare avanti anche Chicago Caps e Atlanta secondo me è un turno non così aperto non così diciamo scontato ma molto aperto ovviamente è un gioco questo è fanta baseball ed è il bello un po' del creare il tabellone principale è vero forse l'ho dato troppo upset però divertiamoci anche così voi appassate di viso che mai guarderete questo video fatemi sapere che cosa ne pensate chi potrebbe essere il vostro favorito al netto delle simpatie io per fortuna sono esterno perché i miei New York Mets sono fuori e non ho interessi mi voglio godere questi playoff al massimo al di là dei miei pronosti che contano ovviamente meno di zero spero di riuscire a fare un commento alla fine di ogni round dei playoff e confrontarlo con il mio personalissimo tabellone sperando ovviamente di essere sbentito in alcune parti se ci becco ovviamente le iscrizioni al canale dovrebbero essere mostruosamente in crescita visto che ovviamente ho beccato tutti i pronosti di questo sport difficilissimo ma bellissimo che è il baseball vi ricordo che gli appuntamenti per quanto riguarda l'inizio dei playoff saranno da domani quindi da martedì 29 per l'American League e da mercoledì 30 ottobre per la National League primo turno almeno delle tre partite quindi chi vince due partite passa al turno successivo fatemi sapere chi potrebbe essere il vostro favorito chi potrebbe essere la sorpresa di questi playoff aspetto le vostre opinioni con merito ci vediamo presto con un prossimo video in particolare parleremo nei prossimi video di moto mondiale di superbike e ovviamente anche del turno delle division series quando finirà già venerdì il primo turno dei playoff il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo presto in un prossimo video